bella raga sono MasterZim e benvenuti in questo nuovissimo video oggi raga video divertentissimo per voi perché raga per me diciamo che sarà meno divertente perché, vedete perché per te sarà meno divertente raga perché forse oggi, non sono sicuro eh, non sono sicuro ma forse oggi raga diventano un cammello vedete ma what the fuck, come fai a diventare un cammello adesso raga vi spiego allora praticamente da tipo tantissimo tempo che guardo su youtube video di gente che fa tipo ogni kill mangio un pagino del mech ogni kill mangio una fattata di pizza ogni kill mangio un cioccolatino ogni kill mangio un pezzo di prosciutto e quindi raga ho deciso anch'io di portarvi questo tipo di video, ok? oggi raga non mangerò, non farò, non shopperò, non farò niente di che ma oggi raga per ogni kill che farò su Fortnite raga bevo l'acqua cioè per ogni kill che faccio bevo un bicchiere d'acqua prima di partire raga mi raccomando raga no, spieghi, che cosa? ma prima di partire mi raccomando raga se siete nuovi del canale non dimenticate l'iscrizione, il like e la campanella e mi raccomando raga la campanella attivatela su tutte le notifiche almeno in questo modo sarete attivi su tutto quello che faccio nel canale sia live che video e ultima cosa raga, cosa importantissima se ancora non l'ate fatto andate nel negozio oggetti di Fortnite e mettete il codice Alessandro Urbeo tutto grande, tutto attaccato e mi raccomando aggiornatelo ogni 14 giorni perché scade quindi ogni tanto mentre giocate a Fortnite controllate se avete il codice ok raga? se non ce l'avete aggiornatelo e in più se volete avere la mia richiesta su Fortnite senza spendere manco un euro basta mettere il codice Alessandro Urbeo allo shop metterlo e una volta che l'avete messo dovete mandarmi una foto o un video oppure basta che mi taggate in una storia così raga vi riposterò mi riposterò la foto dunque dipende cosa mi avete mandato se foto, video o storia vi riposterò nelle mie storie di Instagram raga e vi manderò l'amicizia ok? e poi giocheremo insieme quindi cosa aspettate raga? mettete il codice Alessandro Urbeo il miglior codice di Fortnite che vi permette di giocare il miglior codice di Fortnite che vi permette di giocare con me a Fortnite senza spendere manco un euro ok raga eccoci qui siamo in partita allora dove interriamo? non lo so dai direi di andare ma andiamo proprio a Soborghi Scalcinati mi sembra una bella città per questa sfida dai andiamocene proprio qui raga a Soborghi Scalcinati vai comunque vediamo un po' se trovo giusto un'arma allora ok abbiamo subito un pompa buono bello il pompa P7 ok raga prima kill fatta allora mi boxo e mentre mi faccio lo scidone bevo un bicchiere d'acqua vai raga e dobbiamo fare dobbiamo fare vai tero eh non è che bevo a metà un goccio raga ogni kill un bicchiere intero quindi sarà una sfida veramente acquosa non so che significa ma comunque GG va raga beviamo un bicchiere d'acqua vai prima kill fatta vai e va raga un bicchiere bevuto facciamoci un po' di maz raga perché i maz ci servono una dose ci servono chi è questo Mirko dai raga però non posso trovare bot ogni partita cioè qua mi dovevo bevuto la bottiglia porco oh bot scusa scusa non sei un bot non sei un bot perdonami perdonami oh raga mi hanno fatto raga mi hanno fatto non è vero ok non so come ho fatto questa persona non so come l'ho ucciso raga ma GG a me GG nei commenti raga tutti quanti adesso e niente ho un colpo pompa ma direi di colpi pompa sono messo non sono messo bene di colpi pompa un altro bicchiere d'acqua raga mi ero scordato orco canel joystick va raga beviamo un'altra bicchiere d'acqua vai sempre intero raga sempre cioè forse webcam non si vede ma comunque raga è intero beviamo va raga secondo bicchiere d'acqua bevuto spero di trovarne il meno possibile raga perché l'acqua non è tanta cioè forse se faccio tante kill mi servirebbe un'altra bottiglia d'acqua non mittare aleno aleno maia raga forse mi fa forse questo mi fa raga forse questo mi fa stiamo attenti stiamo attenti facciamoci maz perché ci servono corri corri piavami c'è la piglia piglia vai vai e few moments later eeeh cannone al plasma vabbè raga si prende tutto cioè mica siamo a nezare privati qua scusate si prende pure questo si prende sneaky sneaky e che ti nascondi marco marco dove vai volkswagen è che è la macchina ma che era la macchina raga cioè questo si chiamava volkswagen volkswagen non so comunque no ma che so vabbè volkswagen si raga è pieno di cannoni a rotaia è pieno di cannoni a rotaia raga non va bene se questi vincono ho minacciato calmi 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 è bianco è bianco vai pusha 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 ah raga devo bere un'altra acqua è vero ok un attimo ce la posso fare ce la farò non lo so no porchila lillo cosa ho detto porca lillo lillo statti fermo ma raga c'hanno il cannone a rotaia raga c'hanno il cannone a rotaia raga c'hanno il cannone a rotaia allora io direi di giampare un secondo e direi di andare da una parte dove non ci sta nessun player almeno raga possiamo bere due bottiglie d'acqua se vabbè due bicchieri d'acqua aspetta ancora no perchè ci sta uno qui e devo pusharlo questo vuole buildare vuole scappare questo raga ma dov'è ma è scappato seriamente ma raga ho un hp ma l'ha serato raga ma l'ha serato vabbè gg raga direi di quittare e beviamo tre bicchieri d'acqua ne mancano tre vai beviamo tre bicchieri d'acqua per concludere questa challenge vai raga il terzo bicchiere è andato mettiamo il quarto bicchiere raga vai ma raga non ce la faccio più a bere però le challenge si devono concludere quindi raga ultimo bicchiere d'acqua e abbiamo completato anche questa challenge vai vado veramente non ce la faccio più a bere davvero è l'ultimo l'ultimo bicchiere non si può non bere cioè raga per forza devo berlo per forza vai manca raga non so se si vede ma manca veramente pochissimo manca tipo meno dalla metà anche manca ci sta pochissimo acqua dentro va raga cinque bicchieri d'acqua bevuti ok raga challenge conclusa ho bevuto cinque bicchieri d'acqua madò meno male che non ho fatto tantissimi kill meno male raga forse raga ho bevuto anche un bicchiere in più non lo so comunque forse si forse non lo so comunque raga se io ne ho bevuto uno in più se ho bevuto un bicchiere d'acqua in più scrivetelo nei commenti ok e niente raga questo è il video spero vi sia piaciuto per quando raga se vi è piaciuto facete like iscrivetevi e attivate la campanella su tutte le notifiche per essere attivo su tutto quello che faccio nel canale sia la video se vi volete un altro episodio arriviamo a 45 mi piace va bene raga io vi saluto e ci vediamo al prossimo video o alla prossima live ciao raga